Il fiore perfetto è una cosa rara. Se si trascorresse la vita a cercarne uno, non sarebbe una vita sprecata. Benvenuti nel nostro mondo. Yari Noanzo nasce fondamentalmente dalla necessità di rendere disponibili per tutti i praticanti di arti mazzali giapponesi prodotti con un rapporto qualità-prezzo impressionante ed ineguagliabile. La nostra idea di base è stata unire l'estro e l'inventiva italiana alla costanza e alla cura dei dettagli giapponesi. Ci siamo ispirati al concetto giapponese di Kaizen. Kaizen significa letteralmente miglioramento e l'impegno ad apportare ogni giorno piccoli miglioramenti in ogni frangente della propria vita, tanto personale quanto privata, sociale e professionale. Alla Yari Noanzo facciamo questo. Ascoltiamo i nostri clienti ed usiamo i loro consigli per un costante miglioramento dei nostri prodotti. Yari Noanzo è il frutto di una passione nata quasi 40 anni fa. Ho iniziato a praticare arti marziali all'età di 8 anni e a 14 anni mio padre mi regalò la prima katana. Fu quello il momento in cui iniziò la mia passione per la spada giapponese e per il Giappone in generale. Passione che coltivo ancora oggi e che uso per la realizzazione dei nostri prodotti. Da praticante e collezionista ad un certo punto mi resi conto che sul mercato mancavano tanti prodotti. Così decisi di sfruttare la mia passione e la mia esperienza per offrire qualcosa di nuovo a chi come me cercava una qualità diversa ed un prodotto improvabile. Dopo la realizzazione dei prodotti una grande difficoltà è stata la costruzione di una rete vendita internazionale. L'obiettivo è la rendere accessibile a chiunque l'acquisto dei prodotti di Yari Noanzo, cercando di trasmettere la qualità e la bontà del nostro progetto. Il catalogo dei prodotti Yari Noanzo può essere acquistato in uno degli e-commerce che da più di 15 anni sono presenti in rete, sempre aggiornati con nuove offerte, promozioni e prodotti di ultimo studio. Oltre ai siti Yari Noanzo Italia e YariNoanzo.com, in lingua inglese, i nostri clienti di tutta Europa possono acquistare i suoi siti del nostro principale distributore Katana Marko, in Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Italia e Polonia. E per chi desidera una Katana Custom, abbiamo a disposizione i nostri completissimi configuratori su YariNoanzo.com e KatanaMarko.com. Quando arriva l'ordine di una Custom, la prima cosa che faccio è preparare lo Skashitagi. Il Maki è eseguito secondo le richieste del cliente, applicando il Kusune e inserendo gli Ishigami. Infine, chiudo il Maki con il tradizionale nodo al Kashira. Inghilterra 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 Grazie.